Amici di Marcosbox, benvenuti o bentornati in questo nuovo video. Questa volta è un video non dedicato al nostro caro amato sistema operativo GNU Plus Linux dico GNU Plus Linux altrimenti Richard Stone, ma i suoi seguaci miei vanno a picchiare con un grosso randello ma è un video dedicato al nostro cerimo nemico, a Microsoft Windows perché ho deciso di fare un video dedicato a Microsoft Windows sul canale per parlarvi di una utility che molti di voi non conoscono, che trovo davvero utile e che, diciamo così, vi consente di avere un po' delle funzionalità di Linux all'interno di Windows e capirete fra poco perché parlo in questa maniera ma vediamo di che utility si parla perché la trovo davvero interessante l'utilità in questione è il gestore pacchetti di Windows sui sistemi Microsoft Windows già dal 2021 perché nel 2021 è stata rilasciata la prima versione ve ne ho parlato anche sulle pagine del blog se non ricordo male vediamo un po', sì, ne ho parlato nel 2021 dicevo, nel 2021 Microsoft ha introdotto all'interno di Windows 10 e poi successivamente di Windows 11 un gestore pacchetti che va a pescare le applicazioni sia all'interno del Microsoft Store sia all'interno di un repository gestito, diciamo così, dalla community nel quale è possibile sottoporre applicazioni da inserire in questo repository e intorno di questo repository troviamo una serie di file che, file manifest che servono per andare a dare le istruzioni per lo scaricamento dei pacchetti da questa funzionalità di Windows che ricorda questo sistema vagamente AUR e adesso in questo momento i puristi di Linux mi potrebbero rinciare per questo paragone però non è un paragone del tutto sbagliato perché così come su Aura troviamo le istruzioni per scaricamento e complicazione di applicativi e quant'altro anche in questo caso all'interno dei file manifest troviamo le istruzioni per andare a scaricare e installare applicativi da altre fonti quindi di fatto è una specie di Aura per Microsoft Windows il gestore dei pacchetti di Windows e chi può essere utile? può essere utile? beh, principalmente noi utenti che ci troviamo alle prese con Windows perché grazie a questo gestore dei pacchetti di Windows possiamo andare a scaricare, installare e aggiornare i nostri applicativi presenti sul computer o meglio gli applicativi presenti all'interno di questi macro repository di Microsoft e questo ci consente di velocizzare l'installazione e la gestione degli aggiornamenti perché possiamo fare tutto da riga di comando non dobbiamo stare ad aprire la singola applicazione per andare a vedere se c'è un aggiornamento non dobbiamo andare sul sito del produttore di quella singola applicazione per scaricarci l'aggiornamento nel caso in cui l'applicazione non ha una utility per la gestione degli aggiornamenti integrata all'interno del software e è anche utile perché che cosa fa? di fatto ci va a dare una maggior sicurezza rispetto ad andare lì a scaricare pacchetti quali là applicativi quali là su web perché può essere che magari il sito web del produttore di 7zip l'applicativo che per la gestione di file compressi open source magari può essere stato hackerato e noi collegandoci al sito di 7zip andiamo a scaricare l'install che pensiamo sia legittimo ma magari un install che è contrafatto che ci va a causare danni sul sistema ed è una cosa che non è tutto impossibile su Windows anzi è una cosa molto comune su Windows questo tipo di attacchi che vengono attaccati i siti dei vari applicativi per dirottare il download ve l'ho parlato anche sulle pagine del blog diverse volte è uno strumento utiliissimo poi per gli sviluppatori che vogliono gestire le applicazioni utilizzando la riga di comando è utiliissimo per chi è un fornitore di software indipendente che vuole distribuire il proprio software poi renderlo diciamo più facilmente accessibile ed è soprattutto utile per tutte quante quelle organizzazioni aziendali che vogliono automatizzare la configurazione dei dispositivi e mantenere un ambiente di lavoro sicuro questo gestore dei pacchetti vi dicevo va a pescare applicazioni sia dallo store di Microsoft che da questo repository repository che potete vedere qui sulla pagina GitHub dedicata e sono tantissime le applicazioni presenti su questo repository la cosa butta è che non c'è una interfaccia grafica per andare a installare il tutto quindi dovremo utilizzare la riga di comando ma tant'è questo è uno strumento pensato da riga di comando quindi magari chi ha le prime armi potrebbe trovare un po' ostico perché dobbiamo sapere che cosa vogliamo andare a installare e dobbiamo vedere appunto se è presente all'interno dei repository vi faccio un esempio dei pacchetti che sono contenuti in questo repository ad esempio troviamo 7zip troviamo Gimp troviamo Blender troviamo Inkscape ma troviamo anche cose tipo Opera il browser troviamo Firefox mettiamo un po' troviamo anche applicativi come per esempio i launcher dei vari store tipo Epic Games Launcher per i videogiochi quindi troviamola comunque all'interno di questo repository e tramite alcuni semplici comandi possiamo gestire il tutto possiamo gestire l'installazione di questi pacchetti presenti nei repository e adesso andiamo a vedere quali sono questi comandi che possiamo utilizzare per gestire il tutto allora piccola premessa ovviamente per poter far funzionare questo sistema dovete aver installato sul sistema Winget Winget è preinstallato sulle ultime build di Windows quindi se avete una build aggiornata di Windows sia 10 che Windows 11 non avete problemi vi basterà richiamare Winget e sarà subito pronto all'uso se invece provenite da una build vecchia perché ci so che sono alcuni di voi che magari non aggiornano Windows le build più recenti da diverso tempo le aggiornano soltanto se costretti potete comunque installare Winget utilizzando l'apposito comando che trovate specificato sulle pagine del wiki di Microsoft su wiki di Microsoft sono presenti poi delle informazioni installazioni per come installare ad esempio la versione anteprima di Winget non fatelo se non volete bug ma questa è una cosa dedicata a quelli più svanettoni degli svanettoni diciamo così installazioni per utilizzare installare Winget nella sandbox di Windows considerazioni per gli amministratori di sistema e quant'altro quindi queste sono informazioni che in questo momento a noi non ci interessano comunque vi linkerò all'interno di sotto del video se volete approfondire tutto e qui possiamo vedere quali sono i comandi su Winget questi sono i comandi di Winget di questa utility abbiamo ad esempio il comando per installare le applicazioni quello per visualizzare i dettagli in un'applicazione quello per andare a cercare un'applicazione per avere una lista di tutti i pacchetti installati per aggiornare le applicazioni per disinstallare un'applicazione poi ci sono gli strumenti avanzati quelli per quegli amministratori di sistema come l'export di un elenco di pacchetti l'import di un elenco di pacchetti ci sono diversi comandi andateveli poi a spucciare andate a vedere quelli che volete utilizzare ma quelli che ci troveremo a utilizzare principalmente sono principalmente l'installazione e l'aggiornamento delle applicazioni che sono, mi immagino, quelle che faranno comoda la maggior parte di voi facciamo qualche esempio del funzionamento di Winget e con alcuni applicativi di uso comune innanzitutto apriamo PowerShell e andiamo a dare ad esempio il comando Winget List il comando Winget List come potete vedere qui che cosa serve? serve per mostrare i pacchetti installati quindi se noi andiamo a Winget List va a analizzare i pacchetti installati sulla nostra installazione di Windows e ci fa vedere quali sono i pacchetti installati quelli che sono presenti comunque all'interno dei repository che è possibile aggiornare con Winget quali sono anche i pacchetti che sono stati installati non da questo repository centralizzato ma per esempio quelli presenti su Microsoft Store in questo caso ad esempio troviamo i PowerToys di Windows quindi questi sono tutti gli applicativi che possiamo installare tramite Winget adesso facciamo un esempio di ricerca tramite riga di comando di un pacchetto se noi ad esempio vogliamo cercare il pacchetto di Opera quindi è chiesto Winget andiamo a dare Search e andiamo a dare Opera perché vogliamo vedere se Opera è presente all'interno di questo repository quali pacchetti possiamo installare e qui possiamo vedere che Opera è presente è presente la versione stabile è presente la Beta è presente Opera GX e quant'altro vogliamo adesso che possiamo andare a installarci la versione Beta di Opera la versione di Beta di Opera ha un id chiamato Opera.Opera.Beta quindi se noi adesso vogliamo andare a installare la versione Beta di Opera tramite Winget diamo Winget install Opera.Opera.Beta andiamo a dare in via ed ecco che Winget andrà a effettuare il download come potete vedere va a pescare il setup direttamente dal sito di Opera il link diretto e viene effettuato il download vi faccio vedere anche l'installazione come procede ma è un'installazione standard quindi una volta terminata la fase di download del pacchetto proseguiamo con l'installazione dello stesso andiamo a aspettare qualche altro secondo avvio della installazione del pacchetto e partirà l'installazione di Opera in questo caso l'Opera versione Beta che noi siamo andati a installare come potete vedere semplice e immediato vogliamo adesso fare un altro esempio di comandi che i comandi che poi sono quelli che non utilizza di più andiamo a dare il comando per andare a vedere quali sono i pacchetti aggiornati da aggiornare con Winget Upgrade possiamo vedere ad esempio che io ho un pacchetto da installare che sarebbe il pacchetto di di GitHub se voglio andare a installare l'aggiornamento di GitHub in questo caso abbiamo soltanto un pacchetto da aggiornare però possiamo fare un aggiornamento massivo dando il parametro all che ci consegnirà di andare a installare tutti i pacchetti presenti negli aggiornamenti viceversa se noi avevamo soltanto se vogliamo soltanto installare un pacchetto vogliamo aggiornare soltanto un pacchetto specifico ci bastava dare l'id di quel pacchetto per andare a aggiornare soltanto quel pacchetto mentre col comando Winget Upgrade All andiamo a dare in una botta sola il comando di aggiornamento di tutti i pacchetti così come facciamo anche sui nostri sistemi GNU Plus Linux con i nostri con le nostre amate distribuzioni quindi di fatto è proprio un sistema alla Linux ed è una cosa che vedete se delle volte ci pensate Microsoft quanti anni ci ha messo per capire che era cosa buona e giusta fare una cosa del genere tantissime troppi anni segno che il corso di Satya Nadega che non mi fate incensare Microsoft anche perché potrei essere picchiato da molti di voi utenti affezionati all'ascolto che odiano Microsoft Windows e fanno bene odiare Microsoft Windows però dicevo Satya Nadega nel corso degli ultimi anni ha iniziato a portare avanti una serie di progetti all'interno di Microsoft per diciamo rendere più appetibili gli sviluppatori di Microsoft Windows basta pensare Windows Subsystem per Linux questi comandi questo tool Winget che è molto utile perché gli utenti smanettoni con queste cose ci vanno a nozze come potete vedere io adesso ho aggiornato Winget nel caso di l'aggiornamento per esempio di GitHub Desktop io ho aggiornato il tutto non ho avuto nemmeno la finestra di conferma dell'installazione dell'applicativo quindi ho aggiornato tutto in maniera esiliente in due comandi ho fatto tutto ho aggiornato tutto il sistema ho installato un'applicazione vi ho fatto vedere come cercare un'applicazione quindi tutto molto semplice tutto molto intuitivo mi piace a me questa cosa che è stata introdotta in Windows la trovo davvero utile ogni qualvolta vi dicevo mi ritrovo a dover avere a che fare con Windows per lavoro o per altro vado vado a lanciare subito il PowerShell per andare a fare tutte queste operazioni se non l'avete mai utilizzato su Microsoft Windows prendeteci prendeteci la mano iniziate a utilizzarlo perché è davvero comodissimo vi svolta la giornata vi consente di fare operazioni in maniera più rapida e quant'altro spero che questo video vi sia stato utile lunga vita e prosperità a tutti quanti e ci rivediamo con un prossimo video sul canale YouTube di Marcos Box ciao ciao grazie a tutti